Ci troviamo all'incrocio di Piazza Gravina via Malta, presso il civico 1-3 e come al solito, come potete osservare, l'inciviltà delle persone, come ho ripetuto nel primo video di Piazza Gravina, ci vogliono controlli e guardi ambientali, e guardate qua, è uno schifo, è uno schifo, è un pericolo, un pericolo, guardate, a pezzi di vetro, guardate, E' il colmo, veramente è il colmo, l'inciviltà e il pericolo, cioè di chi non si rende conto nemmeno cosa può accadere, ci troviamo via Malta, con questo ho finito, e segnala tutta la protezione civile, 19 giugno 2014